Buona giornata amici, oggi è sabato 6 novembre, cominciamo la giornata leggendo insieme i giornali, dando un'occhiata ai giornali come sempre al resto del Carlino e al Corriere Adriatico, passiamo però prima per vedere il Santo del Giorno e il Meteo. Il Santo del Giorno è San Leonardo di Limoges, San Leonardo di Limoges visse nel Medioevo, era parente del re Clodoveo, il re dei Franchi fu un'eremita ed è considerato il protettore degli agricoltori, dei carcerati, dei fabbri e delle partorienti, quindi un Santo molto venerato insomma in diversi settori della vita pubblica. Ed ora passiamo a vedere le condizioni del tempo, il tempo si sta facendo incerto un po' su tutta la regione, vediamo la cartina, ecco vediamo le nuvolette con un po' di pioggia, la giornata sarà instabile sulle marche con piogge, soprattutto a ridosso dell'entroterra, a ridosso dell'Apennino, ma a tratti anche sulle coste, le temperature massime sono stabili, le temperature però per quanto riguarda le minime sono in calo. E allora diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani questa mattina, a partire dal resto del Carlino, vediamo che l'articolo di apertura è dedicato al Covid, i contagi tornano a fare paura, saggono un po' in tutta Italia e anche nella nostra regione, il record è stato segnato per quanto riguarda gli ultimi sei mesi con 252 casi positivi, di cui 97 in provincia di Pesaro Urbino. La fotonotizia è dedicata invece alla protesta dei componenti, dei medici, degli infermieri, del pronto soccorso di Pesaro ma anche di Fano, un po' in tutte le Marche dopo i casi di violenza che si sono verificate. Altre notizie richiamate dal resto del Carlino. Veniva dal mare e è morto in mare la tragedia di Sofien, il tunisino che è deceduto appunto in un peschere, è rimbarcato su un peschereccio. Poi un caso di diffamazione, spillette, no panico, insulti al sindaco, un sessantenne in processo. Invece per quanto riguarda Fano viene pubblicata una buona notizia, è stata sospesa una maxibolletta ai danni di una ditta, una maxibolletta pensate per quanto riguarda un consumo idrico da 33 mila euro. Sul Corriere Adriatico il titolo di apertura è sempre dedicato alla sanità. Aiutateci, noi medici stremati, è un po' l'appello di tutti coloro che lavorano nei pronto soccorso, l'appello degli operatori sanitari di Marche Nord, presidio dopo l'aggressione a dottori e infermieri di turno. C'è stata anche la visita ieri dell'assessore Salta Martini al pronto soccorso di Pesaro. La situazione, ha ammesso anche l'amministratore, non è più sostenibile. Berloni, il suocio, vuole il marchio. In Tribunale la proposta di un concordato, la fotonotizia pubblicata dal Corriere e poi le tre notizie di centropagina che generalmente riguardano la cronaca ma anche i problemi di viabilità. Infatti per Catabriga e Vismara ci sono progetti legati alla viabilità in un servizio di Letizia Francesconi. A Pesaro maltratta e picchia l'ex. Per il giudice l'uomo va rieducato. A Fano denuncia rapina ai suoi danni. Il test del DNA la incastra. Non era vero nulla di quanto aveva dichiarato ed è una nomade. Questo punto è capo, si azzera l'ex intendenza. Questo articolo riguarda qui a fondo pagina del Corriere Adriatico l'intendenza che dovrebbe essere trasferita, che dovrebbe essere trasferita in un palazzo ma in realtà occorre costruire tutto da nuovo. Ci sono due ipotesi, zona Viti Frigo o Santa Veneranda. Restiamo sul Corriere per vedere le pagine interne e vedere soprattutto l'evoluzione del Covid. Il quadro sanitario regionale è questo. 61 non sono in terapia intensiva, 21 sono ricoverati in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati negli ospedali per Covid è di 82 unità, 52 in strutture territoriali, quindi non negli ospedali, nelle aziende. 111.188 sono i guariti, quindi dimessi. 2.487 sono in isolamento domiciliare. 2.568 sono gli attuali positivi. E vediamo l'andamento. I casi positivi sono in aumento rispetto a ieri, più 252. I ricoveri in intensiva meno 1, meno 1 in semi-intensiva, più 3 i ricoveri in reparti di non intensiva. E poi abbiamo i tamponi che sono aumentati di 3.502, i decessi più 3. Cluster familiare, 6 effetti dopo una vacanza ad Abano, vaccinati tra marzo e maggio. Gravissima una 85enne rimasta 24 ore in barella al pronto soccorso. La vicenda riguarda Ancona. Ma noi passiamo direttamente a Pesaro e vediamo il servizio dedicato alla protesta degli infermieri del pronto soccorso del San Salvatore. Noi ci mettiamo il cuore, hanno dichiarato, ma non ce la facciamo più. Chi può ora deve aiutarci. Marche Nord, flash mob di medici e infermieri, dopo l'aggressione al pronto soccorso. Pronto soccorso in coda alla catena alimentare dell'ospedale. Tutti i problemi ricadono su di noi. Questo è il messaggio del primario, il dottore Gnudi. E i sindacati avanzano le richieste in un documento. Occorre un presidio di sicurezza H24 e più personale hanno richiesto. Pronto soccorso, parafulmine, situazione non più sostenibile, è quanto dichiarato anche dall'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Non è più possibile, ha dichiarato, che nel pronto soccorso si scaricano tutta una serie di problemi anche sociali, perché qui vengono molte persone che molto spesso nulla hanno a che fare con i problemi di soccorso sanitario. Insomma, il pronto soccorso è un po' di un rifugio per problemi di ordine economico, di ordine sociale, un po' di tutti i tipi. La partecipazione al flash mob mi ha commosso. Tutto il Santa Croce ha fatto sentire la sua presenza. è la dichiarazione del dottor Giancarlo Titolo, che è il primario del pronto soccorso fanese. Insomma, anche lui ha tenuto a essere presente a questo flash mob, perché i problemi di Pesaro sono gli stessi che si riscontrano a Fano. Ogni giorno 8.000 test, ma il Green Pass è lungo, è una spinta al vaccino. Concordi sull'andamento, Golinelli di Federfarma e Pieri, presidente di Aspes. Ancora vediamo le altre notizie. E vediamo la questione della questura. La questura è ormai una questione che si trascina da anni. Ed ora siamo ancora al punto di partenza. Infatti il titolo evidenzia questura. Punto e a capo. Si azzera l'ex intendenza. Ci sono troppe criticità. La futura sede della Polizia dovrà essere edificata ex novo. Due ipotesi sono al vaglio, o vicino alla vitifrigo, o in zona Santa Meneranda, comunque un po' in zona periferica. Rispetto al centro storico. La nuova questura non si farà più dunque al palazzo dell'ex intendenza di finanza. Si cercano altre soluzioni. E nella foto abbiamo l'immagine del palazzo dell'ex intendenza. Sono infatti emerse qui delle criticità tecniche che rendono l'edificio di Via Zongo non adatto a ospitare la nuova questura. Tanto che De Manio e Comune si sono subito attivati per trovare alternative e andare oltre le criticità. L'idea di fondo è che i 6 milioni sul piatto rimarranno. Ma l'edificio dovrà essere costruito ex novo in terreni edificabili, insomma, in altre zone della città. E veniamo alle notizie di cronaca. Manda l'ex all'ospedale dopo un litigio, ma per il giudice dovrà essere rieducato. L'uomo si impegnerà per cinque mesi in lavori socialmente utili, in una cop che si occupa di disabili. Secondo l'accusa, questo imputato, nel corso di una lite avvenuta nel novembre del 2020, avrebbe spinto la donna al muro facendo sbattere violentemente la testa, poi le avrebbe stretto la mania al collo. La donna è finita dunque al pronto soccorso e poi la vicenda in tribunale. Vismara e Catabrighe, viabilità più sicura tra progetti e sensi unici e le piste ciclabili. Ricci e Belloni hanno dichiarato ai residenti, se il quartiere è d'accordo stabilizzeremo le rotatorie sperimentali. Dunque ci sono novità per rendere più sicura questa viabilità. E poi un articolo che riguarda un personaggio molto noto a Pesaro, ma non solo a Pesaro, si tratta di Pagnini, il cantastorie, il poeta, pensate, ha raggiunto la venerabile età di 93 anni. Ebbene, lui non ha mai esposto tutto quello che ha fatto ed ora è arrivato il momento opportuno. Si inaugura infatti questo pomeriggio ai musei civici i Scaraboc, che ripercorre un po' la storia quasi secolare di questo personaggio. Si tratta di un personaggio veramente importante, che lo si può uguagliare a Edoardo Giansanti, detto Pasqualone, e lui stesso ha portato alla ribalta tante poesie di Pasqualone, che è un po' l'anima della tradizione e della, diciamo così, della particolarità dell'essere pesarese. Giriamo ancora la pagina, siamo a Vallefoglia, si parla di enogastronomia, ma soprattutto di tartufo. La quantità è sempre poca, così il prezzo adesso si impenna. Ad Aqualagna in piazza 4.000 euro al chilo. Al ristorante un piatto di tagliatelle con il bianco a 45 euro. Insomma, il tartufo è buono, ma costa non poco. A Urbino, gli esercenti propongono la chiusura per tutti alle due di notte. Cecchini di Confcommercio, Egidio Cecchini, rilancia la soluzione al sindaco. Ritiro dell'atto consigliare dovuto. Quindi non più chiusure a mezzanotte, ma la possibilità agli esercenti di lavorare fino alle due. Sperando che non succeda, come accade spesso al giovedì, tutta quella parapiglia, tutti quegli atti di devastazione che accadono nel centro storico della città ducale. Una notizia di cronaca a Urbania. Un silo con segatura va in fiamme nella notte. L'incendio alla PV di Urbania, domato in meno di tre ore dai vigili del fuoco di Urbino. Un intervento provvidenziale per evitare danni peggiori. E siamo ormai sulla pagina di Fano. Ieri è stata la festa dei vigili urbani. Più che festa è la ricorrenza della fondazione del corpo dei vigili urbani, 158 anni fa. E in questa occasione c'è stata una cerimonia religiosa in cattedrale e poi una cerimonia civile nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. E qui il comandante ha ringraziato tantissime persone, ha ringraziato soprattutto il suo personale e ha espresso una sintesi del comportamento degli automobilisti, ma anche dei vigili, nel corso del 2021. Facendo un po' il paragone con gli anni passati, saltando un po' il 2020, che è stato un anno particolare, coimprontato soprattutto al Covid. Ebbene, l'anno scorso i vigili si sono confrontati anche contro la pandemia e quest'anno si sono confrontati invece con la carenza di organico, sanata solo alla fine dell'estate con l'assunzione di 11 nuovi vigili a tempo indeterminato. E veniamo al titolo. Fanesi molto indisciplinati alla guida, ma più rispettosi dei divieti di sosta. Aumentano le multe per eccesso di velocità. I dati diffusi in occasione della festa della Polizia Locale. Qualche dato. Vediamo che i sequestri per le auto sorprese senza revisione sono stati 311 fino ad oggi, nel 2021. Le sanzioni applicate per l'inosservanza alle norme del Codice Stradale sono state 15.000 rispetto alle 20.098 del 2019, l'anno di riferimento perché appunto il 2020 l'abbiamo saltato. I divieti di sosta sono stati 1.780 contro le 2.547 del 2019. Le multe per divieto di fermata 744 contro le 1.327 regresse. E poi sono in aumento invece le multe per eccesso di velocità 157 contro le 124. del di due anni fa. E poi gli attraversamenti degli incroci con il semaforo rosso, multe 2.784 rispetto alle 5.320 del 2019. Ci sono state multe anche per l'uso del cellulare durante la guida, 22 rispetto alle 88 dell'anno di raffronto. E per quanto riguarda il mancato allaccio delle cinture di sicurezza, 21 contro le 26 del 2019. E ieri c'è stato anche un incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle per presentare il libro dei Navigator. Sarebbero coloro che presiedono a tutto quel movimento per quanto riguarda l'assegno dato alle persone indigenti. Si tratta di tante storie che sono state raccontate, storie di umanità sofferente. La sottosegretaria Cotto è stata presente alla presentazione del libro con il fanese Carnazza. Reddito di cittadinanza fa rima con civiltà e dignità, secondo il Movimento 5 Stelle. Questo è il messaggio lanciato con una rinnovata convinzione della bontà di questo provvedimento, salvo ovviamente tutte le truffe che ci sono state da parte di coloro che non avevano diritto di ricevere l'assegno, ma lo hanno avuto per mancanza di controlli. E ieri si è inaugurata anche la panchina che inneggia l'Europa nei pressi dell'anfiteatro Rastat a Fano. Anche a Fano l'iniziativa del Movimento Federalista che esalta i valori dell'Unione Europea. Una panchina azzurra con il cerchio delle stelle che insomma ripercorre l'immagine della bandiera europea. A Fano sempre denuncia rapina ai suoi danni, ma il test del DNA cambia scenario. Questa è la storia di una trentottenne di origini napoletane nomade che aveva così denunciato una presunta aggressione. In realtà era lei che stava tentando di rubare delle auto, ma è stata scoperta dall'esame del DNA prelevato dal sangue. Per quanto riguarda Frontone è l'articolo di apertura della pagina della Val Cesano. L'impianto di nevamento al via come se il clima non cambiasse. Ebbene qui abbiamo una protesta degli ambientalisti che sono molto attenti a così valutare tutte le novità che si evidenziano nell'entroterra al fine di preservare intatto il paesaggio, l'ambiente di questo straordinario panorama. Gli ambientalisti chiedono alla giunta regionale Acquaroli di revocare i fondi. Con 100 mila euro sistemeremo tre strade. Il sindaco Nicola Barbieri, che parla, sindaco di Mondolfo, interviene sull'ultimo bando per la sicurezza delle fermate dell'autobus. E qui sono iniziati i lavori. Lavori delle asfeltature, alla illuminazione pubblica, finanziamenti per la sicurezza stradale e il trasporto pubblico. Il sindaco Nicola Barbieri fa il punto sui diversi interventi che partiranno nei prossimi mesi. Tiriamo ancora pagina e arriviamo a Senigallia, dove si parla di pronto soccorso e quindi ancora di sanità. Dopo l'appello del primario, ieri pomeriggio, l'assessore regionale Salta Martini ha visitato l'ospedale. Quindi nella mattinata a Pesaro, nel pomeriggio a Senigallia, i medici del pronto soccorso arriveranno dagli altri reparti. Carenza di personale, c'è un movimento interno per superare questa emergenza. I pronto soccorso sono la prima porta di accesso all'ospedale, quindi sono veramente delle strutture importantissime. Ed ora veniamo alla pagina del resto del Carlino. Balzo dei contagi in provincia, i dati peggiori. E la quarta ondata, i numeri sono chiari. Qui abbiamo una intervista rilasciata dal primario di medicina Gabriele Frausini, dove fa un quadro di tutta la situazione. Evidenzia anche come il paziente più giovane sia un 42enne ricoverato ieri mattina. E per quanto riguarda la prontezza di tutto l'apparato sanitario di Marche Nord, che fa capo soprattutto per quanto riguarda medicina al Santa Croce, dice che Marche Nord è prontissima, sia dal punto organizzativo che clinico, farmacologico, ad affrontare questa nuova emergenza. Soprattutto grazie anche alla validità degli anticorpi monoclonali, che ci stanno aiutando, ha detto Frausini, e funzionano davvero bene. 112 le persone che abbiamo trattate, tutti i pazienti fragili, e di questi nessuno è deceduto per cause referibili al Covid. Pronto soccorso, basta violenze, e l'assessore fa il tour tra le barelle, e vediamo una fotonotizia, una bella fotografia, bella così perché significativa, di tutto il personale che ha fatto il flash mob di fronte all'entrata del pronto soccorso. Ora sono a rischio anche i medici vaccinatori. Bene, 54 nelle Marche sono in scadenza di contratto. C'è il vaccino, ma c'è il rischio che manchino poi i medici che lo inoculano. Veniva dal mare e è morto in mare la tragedia del tunisino Sofien. Era in attesa di documenti ed era arrivato al porto di Pesaro da Ancona. L'autopsia dovrà stabilire se è stato fatale il colpo ricevuto dal vericello del peschereccio, oppure se il 26enne è morto affogato all'alba di giovedì. Comunque grande è il cordoglio di tutti i compagni di lavoro che lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo carattere. Sindacontagio, processo per insulti a Ricci. Un altro degli odiatori del sindaco giunge alla sbarra. Parole pesanti sui social e inizio pandemia all'epoca delle spillette. Niente panico. Alla sbarra è giunto un uomo di 60 anni, pesarese, accusato di diffamazione e il comune si è riservato di essere parte civile. E veniamo ad una bella iniziativa che si svolge a Santa Maria dell'Arzilla. Qui i residenti hanno adottato un senzatetto, un senzatetto che vagava tra le case. Ebbene, si tratta di Michael, un giovane arrivato dall'est. La gentilezza di questo ragazzo ha conquistato tutti. Gli hanno offerto anche un tetto sulla testa, ma lui lo ha rifiutato. Ha accettato invece viveri, generi di conforto. E poi a un certo punto si è dileguato. E gli stessi residenti sono preoccupati, sono andati a ricercarlo. Lo hanno ritrovato e lo hanno riportato a Santa Maria dell'Arzilla, dove ormai lo considerano uno di loro. Ci sono anche delle erogazioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Sul piatto c'è 1 milione e 200 mila euro. Di questi, il 50% saranno riversati nel settore volontariato, filantropia e beneficenza. Il 30% arte, attività e beni culturali. E il restante 20% nel settore educazione, istruzione e formazione. Vediamo come nella pagina di Fano si parli anche sul Carlino della festa dei Vigili, di cui abbiamo già parlato. Mentre sulla protesta che riguarda la ciclabil dell'Arzilla, c'è una novità, ora sembra che il Comune ascolti. L'amministrazione avrebbe accettato di confrontarsi con i cittadini dopo le proteste e potrebbero salvarsi quei 33 alberi che, secondo il progetto, dovevano essere abbattuti. E qui abbiamo la buona notizia della sospensione della bolletta dell'acqua da 33 mila euro dopo la denuncia del titolare dell'Officina Mondial Assistance. L'ASET valuterà se ci sono gli estremi per l'annullamento del prossimo CDA. Questa maxibolletta rischiava di far chiudere l'azienda e quindi di far sospendere tutti coloro che vi lavoravano all'interno. Ciclabile di via Negusanti, ora protestano i commercianti. Sono preoccupati per la perdita di molti posti auto. Non c'è neanche il posto per il carico e scarico, affermano. La caserma Paolini alle 8 del mattino è già piena. È un grande serbatoio, ma si intasa subito. Sul lato dei negozi i posteggi restano, ma non più a spina di pesce. Saranno in fila e con disco orario e quindi saranno molto, molto di meno. Luci fermate del bus e strade, una città a cantiere e Mondolfo. Interventi già in corso ed altri eminenti nella città di Mondolfo. Il sindaco Barbieri, nuova illuminazione pubblica su Viale Carducci e Piazza Roma. Ebbene, dopo questa notizia, diamo anche un'ultima nocchiata allo sport. Vediamo che c'è sempre molta apprensione per quanto riguarda l'incontro della Visse con la Reggiana. Uno degli incontri più attesi. La Reggiana è una squadra tosta. Giocheremo per la gente, ha dichiarato il tecnico Banchini. Avversario di categoria superiore e con un super tecnico. la squadra avversaria, stimolante a affrontarli in casa, contando anche sul fluido tra campo e tribuna. E qui anche i tifosi dovrebbero fare un po' la differenza. Vediamo il Fano, invece. Il Fano, dopo il mercato, servono punti. Sì, si è rinforzato. Ha acquistato tre nuovi giocatori, ma ora questi qui devono fare punti. Il presidente russo, domani a Montegiorgio, si aspetta una risposta agli sforzi fatti in settimana. Esposito e broso in forte dubbio. Vediamo anche se abbiamo la notizia della VL. della VL la prendiamo sulla, vediamo se la rintracciamo sulla, vediamo, sulla pagina del resto del Carlino. Più che la VL abbiamo invece la Virtus Scudetti e Scippi e Risse, le Mille Virtus Pesaro, il canestro di Zampolini nel 1982, il dodicesimo titolo per la Vunera nel 1994 con la zuffa Col de Bella McLeod Myers soffiato a Cazzola. È un titolo che riguarda una finale Scudetto e una Coppa Italia delle due squadre. Ebbene, questa era, dopo questa grande classica, diciamo che era l'ultima notizia di questa mattina. A questo punto vi do appuntamento alle notizie della giornata di questa sera alle ore 20 e 30 su Fano TV e noi ci risentiamo lunedì prossimo per la Rassegna Stampa. Buona giornata. Grazie.